Intervento nel primo pomeriggio dei carabinieri sulla statale 16 alle porte di Stanghella, per quanti arrivano da Rovigo. I carabinieri hanno intercettato un tir che secondo le prime ricostruzioni trasportava vari clandestini, in corso le operazioni di identificazione. Un episodio simile era avvenuto in estate in Viale Amendola, nel territorio comunale di Rovigo, sempre quindi vicino a un casello autostradale.